Non basta un'urima di qui? Si Ma c'è anche questa cosa della loro prima in Italia in Italia dove si apre in Italia la prossima sui dettagli di prodotti e poi si c'era anche il video e poi si apre il video si vede? E questo è un po' che farò all'arbre con la fascia della testata della U Esatto Faccio partire Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti